Quarta corsa in programma, li potono le capannelle, anche abbinata alla scommessa seconda Tris, un miglio per quattro anni, Schubert-Horra, San Dete, Scherford-Run, Saxe-S, Sannitz, Spartak, R3B, Socrate-Vicche in prima fila, in seconda Stevejo Mondial, Stradivari-Cube, Sabino-BLV, Sheridan-Stelvio-Live, l'errore per Spartak, R3B, parte piano, Socrate-Vicche, che poi sbaglia, rimette al volo Enrico Bellei, adesso prova a puntare davanti dove c'è Scherford-Run, che ha all'esterno Saxe-S, lungo la corda Schubert-Horra, poi Sannitz con di fuori Socrates-Vicche, ancora Stelvio-Live, che ha di fuori Sheridan, lungo la corda c'è anche Stevejo-Mondial, cavalli dopo quattrocento metri di corsa con Scherford-Run che va a rifinirli in un veloce 28,7. Si ripiega in quarta posizione la corda, Saxe-S, così che Socrates-Vicche adesso può provare a presentarsi sui primi. Terza ruota di Sabino-BLV, 44,600, mantiene ottima andatura il leader con Sabino in una onerosa. Terza ruota, in terza pariglia c'è Stevejo-Mondial, 800 in un minuto con Sabino che è riuscito a scavalcare Socrates-Vicche, e prova l'aggancio con Scherford-Run che sembra avere del buono in mano oggi. chilometro in 1,14,3 per Scherford-Run, seguito sempre da Schubert-Hor, poi lungo l'esterno c'è Sabino-BLV, ancora Socrates-Vicche sta tentando la terza ruota a Sheridan, ma Scherford-Run per il momento non ammette interferenze, tre quarti di miglio in 1,28,5, seguito sempre da Schubert-Hor. Schubert-Hor, sbaglia Socrates-Vicche, si lancia in mezzo alla pista a Sheridan, ma Scherford-Run ancora in vantaggio, adesso però offre il fianco al finish ficcante di Schubert-Hor. Lungo la corda anche Sannitz, Schubert-Hor è passata ai 100 finali e va a vincere in totale scioltezza. Per il secondo posto sul traguardo Scherford-Run precede Sannitz, 1,57,9 la distanza, una misura ufficiosa intorno all'1,13,7. Prestazione super di Schubert-Hor, cavallo sempre regolare e spesso in evidenza sulla pista, ha sfruttato la schiena di un ottimo Scherford-Run che si è arreso solo ai 100 finali per emergere chiaramente nel finale. Warner Martellini in sulchi e al training i colori della scuderia Camelot, 1,35, questo ordine arrivo ufficioso della quarta corsa dalle capannelle. Grazie a tutti.